26 fiducia in appena 10 mesi. Il governo Meloni sta ricorrendo a quest'arma forse in modo un po' eccessivo, non crede? Sono riusciti a battere ogni record, anzi polverizzarlo. Una fiducia ogni 9 giorni, ma soprattutto sono riusciti a fare un monocomeralismo di fatto. Ogni provvedimento che passa qui con la fiducia decadono tutti gli emendamenti, quindi c'è l'impossibilità delle Camere di poter entrare dentro questi decreti. Per quanto riguarda il salario minimo, la maggioranza è divisa, si tende a rinviare la discussione, c'è una sospensiva, lei come la vede? Intanto ci sono 4 milioni di italiani che guadagnano meno di 9 euro l'ora, ci sono tantissimi contratti collettivi nazionali che hanno bisogno di un salario minimo legale per dare forza, diciamo, la contrattazione collettiva e perché in questo Paese non si può indicizzare tutto, se ci pensate i mutui, se pensate al costo dell'energia, se pensate al costo della vita e pensare che i salari non vanno indicizzati. Per questo chiediamo un salario minimo legale e il governo, la maggioranza, può pure scappare sotto l'ombrellone. Quello che non può fare è non cogliere la sofferenza del Paese e mandare un sms a così tante famiglie che sono in stato di povertà, soprattutto di lavoro povero, è davvero un insulto alla decenza. Quindi possono scappare dove vogliono ma verranno rincorsi e le manifestazioni di oggi sono la dimostrazione che quell' sms glielo mandiamo noi a loro, salario minimo subito. Lei si riferisce anche al reddito di cittadinanza che sta alimentando proteste in tutta Italia, come se ne esce? Intanto è indegno l'idea di scaricare sui servizi sociali questioni che attengono al lavoro perché a fine stipendio manca ancora troppo mese e la vicenda salariale e quella del reddito sono molto più connesse di quanto si pensi. In Italia serve piena e buona occupazione ma anche i dati economici ci dicono che gli unici settori trainanti sono quelli che hanno una alta precarietà e una bassa retribuzione. Per questo serve discutere del livello dei salari tra l'altro in un Paese in cui i profitti aumentano e i salari invece diminuiscono. Grazie a tutti! Grazie a tutti!